Sto già riprendendo? Ciao ragazzi, questo è il video di Michael Scampinato Buongiorno a tutti, buongiorno di questo nuovo Allora Simone sta interrompendo il nostro vlog Ma devo guardare su o giù? Se guardi su, vieni più figa di quando guardi giù C'è anche Simone che sta guidando in questo momento però È troppo impegnato È troppo impegnato Per fortuna Che dire, due giorni alla conquista di Roma? Due giorni alla conquista di Roma, qui parte la ship Faccio una panoramica generale, Raina, ora del traffico di Roma Secondo Simone Workout Allora, il traffico di Roma è una merda Ce l'abbiamo fatta L'intro non so se sia venuta molto carina Sarà sicuramente un disastro Ormai l'avete capito, siamo a Roma Siamo con della brutta gente Siamo arrivati alla Fontana di Trevi Io una volta li ho lanciato dentro Vabbè ma ascoltate Vi devo fare davvero un tipo Una spiegazione di quello che c'è a Roma Siamo tutti a dieta qua Io ci fai una fotografia Mi chiedi a dirlo Tanto non è posante Prima, seconda, testare e contorno Avendo a me non sono qua Nel dubbio Il testare è tutto tuo amico No, buca miseria Siamo molto combattuti su cosa mangiare Poi rimaniamo puliti Ci vedremo poi in la cena questa sera Pollo riso, pollo riso Pollo riso Perché devi fare la diversa? Poi lo faccio Stavo facendo un video Ultra zoom No, sto zoomando di più Una cosa importantissima Che è più grosso Aggiornamento rapidissimo Allora abbiamo girato Roma Abbiamo vloggato Voi non so come O cosa avrete visto Perché questo video sarà un gran casino Però stiamo veramente godendoci la giornata Gli altri ragazzi Che ovviamente faranno video anche loro Sui loro canali Trovate tutto in descrizione Ma mi pareva palese la cosa Però faranno anche loro Dei video sull'allenamento Per cui andate a vedere anche loro Il mio sarà ovviamente Un motivazionale Di quelli Spero Più pesante possibile Spero di riuscire a cavarmela Con le riprese Per cui partiamo subito Per cui partiamo subito Sperre Per cui partiamo subito Sperre In this world, oh no Tonight I'll bring in the future and tear down my walls So we can let every single barrier fall I'm losing my layers, I'm letting you know So won't you come back into me where you belong Won't you come back into me where you belong All we ever wanted is to feel our love Baited in the light, and our time's so right We all share this moment and the rich and rich So just hold on tight in this world All we ever wanted is to feel alive In this world, oh no In this world, oh no Congelato Simone, non so cosa dire Ci sei, sei online? Ci sono, ho fame Ok, allora, aggiornamento dopo la palestra Siamo venuti al giapponese Io non volevo penere, giusto Giusto È un falso, è un falso Sarà tipo un anno che non mangio sushi Non ti preoccupare, quello che non ti prendi te Lo pio io, quindi stai tranquillo Te ordina, ordina, poi quello che non ti vamo Magno io, non ti putza niente Magno io, non ti prendi te 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 No, non ti prendi te No, non vi parlo Abbiamo finito il raduno Grazie a tutti, è stato bellissimo Si è divertiti Si è venuta un sacco di gente Abbiamo pano Penso che dovremmo mangiare qualcosa Per cui siamo venuti Allora, diciamo burger Che sono i pensi del tuo Cima Simo? Che per me è spettacolare Io ho the wild west tutta la vita Galletto Galletto Buon appetito ragazzi Due giorni dopo essere tornata a casa Sto irritando questo video Mi sono reso conto che non ho fatto la chiusura Per cui avrei dovuto davvero dire qualcosa Però preso dalla foga di fare mille cose in capitale Effettivamente non abbiamo più fatto niente Grazie di cuore a tutte le persone In primis la Vale e Simone Che mi hanno tenuto una grandissima compagnia Per tutto il weekend di Roma E poi a tutte le persone che davvero sono venute al raduno Sono stati venuti da lontanissimo Addirittura due ragazzi da Altamura Due ragazzi dalla Campania Veramente tantissimi regali Tantissime foto, abbracci, sorrisi Persone che volevano stare lì È stato incredibile Lo avete visto Non sto a ripetermi Grazie di cuore davvero a tutti Ci saranno altri raduni Questa idea di fare dei raduni un po' dei meeting È bellissima però Speriamo di prendere magari un po' meno freddo Perché il Colosseo faceva veramente troppo freddo Ed era ingestibile Avete visto in questo video Che effettivamente ho cercato di raddensare Solo i momenti salienti C'è un perché Perché ci siamo davvero goduti I momenti insieme Con la Vale, con Simo Con la scusa davvero di non vederci mai Purtroppo per la distanza Per cui questo è un gran rammarico Avere persone vicino è veramente molto importante Spero davvero che riusciate voi A tenervi strette Le persone che vi fanno davvero stare bene Perché vorrei poterlo fare anche io Detto questo Grazie davvero a tutti per la visione Grazie davvero di cuore a tutti Per essere venuti al raduno Grazie per le splendide parole Che avete scritto sotto le foto Che avete scritto sotto ogni singolo video Postato in quell'occasione Noi ci vediamo come al solito In un prossimo video Per l'occasione Grazie.